Isolato in Veneto anche il paese di Voi, Ugano, altro comune, Focolaio. L'abbiamo sentito, l'allerta è massima in tutta la regione. Alessandro Ungarato, in diretta. Sì, buonasera. Solo poco tempo fa, pochi minuti fa, un'altra donna trasportata con l'ambulanza qui al pronto soccorso dell'ospedale di Padova. Sintomi insoliti, febbre alta, una tosse violenta, non è stata nemmeno visitata, l'hanno subito trasferita al reparto infettivi. Beh, una situazione certamente preoccupante. Non si tratta solo di psicosi, perché i casi di contagio sono in aumento. Naturalmente, con la paura che dilaga, si cercano soluzioni. La prima, quella di evitare assembramenti. Ci prova anche la Chiesa. Il Patriarca di Venezia oggi ha deciso di dire stop alle messe, incluse quelle della domenica. I fedeli vengono invitati a rimanere a casa, dedicarsi alla preghiera e alla meditazione. Ma vediamo il servizio. Scuole chiuse, stop a mercati e manifestazioni pubbliche, sanificazione su tutti i treni e i vaporetti, aumentano i contagi in Veneto e per bloccare la diffusione del virus servono misure drastiche. L'interdizione di tutte le manifestazioni che prevedono aggregazione di persone, che si vanno da quelle grandi manifestazioni, che sono il Carnevale, in giù, gli eventi sportivi, ludici, su scuoli privati e anche su scuoli pubblici. I primi due casi nel centro storico di Venezia. Una coppia di anziani, 88 anni, ricoverati all'ospedale civile. Risultati positivi. Si aggiungono i nove pazienti in cura all'ospedale di Padova. Tutti in isolamento nel reparto infettivi. La situazione più grave, quella del 67enne di Mira, sulla riviera del Brenta. Lui avrebbe contagiato i tre sanitari dell'ospedale di Dolo. In quello di Schiavonia, dove erano ricoverati i primi due pazienti veneti contagiati, sono già stati fatti quasi mille tamponi sugli operatori e nessuno è stato trovato positivo. Negativi anche i test sugli otto cinesi, lavoratori in un laboratorio tessile di Voe Uganeo, sui quali si erano concentrati i sospetti. Non è tra loro il paziente zero. Proprio a Voe tutto è come paralizzato. Nessuno può entrare e uscire dal paese. La zona sarà completamente isolata. Ma i divieti ormai riguardano gran parte del nord-est. Anche la regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di chiudere le scuole e sospendere tutte le manifestazioni culturali e sportive. In questo scenario inquietante, un momento di gioia. Tre nascite l'altra notte all'ospedale di Schiavonia, due maschietti e una femminuccia che insieme alle mamme e ai papà hanno portato un po' di luce nel buio della quarantena.